Musica 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 Ehi, ciao! Pronto? Niente carta? Io non ci andrei a dentro Sì Oh, niente sabore Soli tipani le domande Musica 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 No, no dai dai Dai, oggi film manifestazione Dai, su Dai, su, su Che caro Dai, bella manitta Dai No, ma tu devi prendere la manifestazione. Ciao ragazzi, dove fanno la manifestazione? Ti prego di me! Ti offro un caffè, ti prego. La palestra della Piazza. No, ma ci sono questi clienti che inviolavano il paese emergente, qui e tutte queste cose. Ancora, come la Cina. Ci sono? Siamo i futuri. Ragazzi, stanno aspettando l'ascensore? Eh sì, perché mi sono fatta male. Spiagge, papà. L'ascensore alla Manzoni. Cosa succede? Mi stanno ecco lì. Mi stanno ecco lì. Adesso si piazza la Manzoni! No, lo prenotate io! Io l'ho notato. Io l'ho notato l'altro ieri. No, ma davvero. Prima io c'ho il foglio. Guarda. Anche se il mio foglio l'ho notata io. Prenotate il visore da Manzoni. Stiamo cercando tutti il preside Il preside Buongiorno ragazzi Dov'è? Dove è finito? Cercare il preside della manzoli Questa è la nostra manzoli Bella